In sella una moto, come nella vita. Quando possiamo dire di essere davvero arrivati dove volevamo? Nel DNA di Ducati c'è l'attenzione a cercare sempre nuove strade da percorrere e nuovi traguardi da raggiungere. Questo significa innovare e lo abbiamo fatto anche questa volta. L'espressione dei valori Ducati nella loro forma più pura. Il DNA racing di Ducati in una sintesi di materiali pregiati, soluzioni tecniche sofisticate e uno stile unico. Una moto emozionante, votata alla performance, senza dimenticare comfort e versatilità. In una parola, la nuova Multistrada V4 RS. La Multistrada V4 con il motore Desmo. La Multistrada V4 RS. La Multistrada V4 RS. La Multistrada V4 RS conquista la scena grazie al suo design esclusivo. è la livrea speciale Iceberg Wide, arricchita con elementi grafici ispirati alla MotoGP. Come tutte le Ducati, questa moto è nata per creare una sintonia totale con il pilota e regalare emozioni e performance uniche. Il cuore è quello della super sportiva Ducati per eccellenza, la Panigale V4, addolcito per una guidabilità più confortevole anche fuori dalla pista. Il nuovo codino posteriore in tecnopolimero è integrato con le maniglie del passeggero per una linea ancora più asciutta e sportiva. Parafango anteriore, Beppo e Paramani sono in fibre di carbonio. Ma se vogliamo parlare di materiali esclusivi, il fiore all'occhiello è il telaietto posteriore in titanio, soluzione unica ed esclusiva direttamente dal mondo delle corse. La nuova Multistrada V4 RS sarà prodotta in serie numerata, con il numero riportato sulla testa di sterzo e anche la chiave sarà personalizzata con la sigla RS laserata sulla cover. Questa moto porta il DNA sportivo di Ducati nella famiglia Multistrada, garantendo performance senza precedenti. Il motore è il cuore pulsante di ogni Ducati. La Multistrada V4 RS monta infatti il Desmo 16 stradale da 1103cc, di derivazione MotoGP usato sulla Panigale. In poche parole, distribuzione desmodromica, 180 CV e il limitatore portato a 13.500 giri, ben 2.000 giri in più rispetto al V4 Gran Turismo. Per assicurare il massimo equilibrio tra performance sportiva e guidabilità in ogni condizione, è stato fatto uno studio accurato sul sistema di aspirazione, andando a lavorare sulla lunghezza dei condotti e sulla dimensione dei corpi farfallati. La frizione a secco STM Evo Superbike, di serie, esalta il carattere dell'RS con una funzione anti-saltellamento ancora più efficace e personalizzabile, per una maggior fluidità di mille. Un altro vantaggio di questa soluzione è la separazione del nodo del cambio dalla frizione. Questo permette di utilizzare il Ducati Corse Performance Oil, sviluppato in collaborazione con Shell, che aumenta la potenza massima di un ulteriori 2,5 Tavalli. Inoltre, abbinando quest'olio allo scarico Ducati Performance, è possibile arrivare a una potenza massima di quasi 195 Tavalli. Il Desmo 16 stradale è fluido e gestibile ai bassi e medi regimi, mentre agli alti esprime tutto il suo potenziale, con un allungo da vera superbike. Queste sensazioni sono esaltate dalla rapportatura finale più corta, che in accelerazione chiama le marce una dopo l'altra, in un susseguirsi di emozioni, con la sesta lunga che riduce i regimi nelle velocità di crociera, a tutto vantaggio di comfort e consumi. Il terminale Akrapovic, che fa parte dell'equipaggiamento di serie, rende il sound della V4 RS unico e inconfondibile. L'esclusività di questa multistrada si esprime in un pacchetto tecnico davvero sofisticato, ma qual è la formula che la rende unica? Abbiamo mantenuto leggeri cerchi forgiati, il forcellone monobraccio, le sospensioni Hollins Smart EC 2.0, riviste nella taratura elettronica, per garantire ancora più efficacia sia in termini di guida veloce che di comfort, così come i freni da vera superbike, con i dischi da 330 mm e le pinze Brembo Stiletti. Sempre nell'ottica di ottenere il massimo della leggerezza, abbiamo introdotto un telaietto Regiselle in titanio, che da solo ci ha permesso di risparmiare 2,5 kg. Una riduzione che va sommata a quella ottenuta con l'adozione di una batteria più compatta. Grazie a queste dotazioni, la multistrada V4 RS arriva a pesare 3 kg in meno della multistrada Pikes Peak e ben 7 kg in meno rispetto alla S, ottenendo un nuovo record di peso. È la multistrada V4 più leggera di sempre. Siamo intervenuti anche sul manubrio, ora montato rigidamente alla testa di sterzo, e cioè senza silent block, in modo da rendere ancora più diretta e precisa la risposta ai comandi del pilota. Quando si lavora su questi livelli, ogni dettaglio conta. Abbiamo perciò introdotto un set di manofole dedicate, più morbide, per migliorare il feeling del pilota. Sulla multistrada V4 RS sono state mantenute tutte le soluzioni per il miglioramento del comfort termico già presenti sulla famiglia multistrada. I paracalore posizionati sotto la sella e i convogliatori laterali, richiudibili nelle giornate più fredde. Il carattere sportivo di questa moto è enfatizzato dai Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa, i pneumatici di primo equipaggiamento. Profili appuntiti derivati dalle corse e mescole più morbide sulle spalle esaltano la maneggevolezza e garantiscono sensazione di contatto e grip sia a centro curva che in accelerazione. Come da tradizione Ducati, la gestione delle performance non poteva che essere affidata a un'elettronica allo stato dell'arte. Partiamo dai quattro riding mode, urban, touring, sport e race, ciascuno caratterizzato da diversi livelli di intervento dei controlli elettronici. Il più sportivo è il race, identificato con una bandierina scacchi sul dashboard e con power load full, con piena potenza su tutte le marce e risposta pronta dell'acceleratore. Per permettere a tutti di sfruttare al massimo le capacità dinamiche di questa moto e le novità di motore ciclistica, sulla V4 RS abbiamo affinato tutti i controlli. E c'è ancora di più! Questa multistrada è dotata di engine brake control che rende possibile regolare il freno motore su tre livelli, a seconda dello stile di guida e dell'utilizzo della moto. La risposta del freno motore sarà sempre quella voluta dal pilota, esattamente come sulle supersportive Ducati. Inoltre, sulla nuova multistrada V4 RS, l'elettronica offre grande comfort e sicurezza su strada, con il monitoraggio dell'angolo cieco reso possibile grazie al radar posteriore di serie su questa moto assieme a quello anteriore. Su una moto, più la tecnologia è sofisticata, più la vita del pilota è semplice e l'interfaccia assume un ruolo fondamentale. Attraverso la strumentazione TFT a colori da 6,5 pollici, ogni sistema è facilmente utilizzabile e personalizzabile a piacimento ed è proprio la facilità d'uso che fa uno step in avanti, grazie alla nuova grafica che consente la visualizzazione in tempo reale del livello dei controlli elettronici. La grafica deriva da quella già in uso su Panigale. Non solo viene visualizzato il livello impostato per i sistemi ABS, Traction Control e Wheel Control, ma per questi ultimi due, ogni volta che intervengono, la relativa voce viene evidenziata e lampeggia un angolo dello schermo. Un feedback prezioso per qualsiasi pilota, dall'amatore al professionista. E quando l'asfalto della pista finisce, la nuova Multistrada V4 RS è pronta a offrire un piacere di guida totale, in ogni situazione. Per risaltare il comfort e la versatilità, sono disponibili le valigie laterali, oltre alla possibilità di dotarla della vasta gamma di accessori dedicati alla famiglia Multistrada. E con le altre moto della famiglia Multistrada, la V4 RS condivide anche la garanzia Forever Ducati, valida a 4 anni, a chilometraggio illimitato, garantita dalla nostra rete di concessionari. Moto dopo moto, il nostro viaggio alla scoperta della gamma Ducati 2024 continua. Passione Leggerezza Emozione E agilità Siete pronti a dominare la scena? Nel prossimo episodio proveremo il più puro divertimento su due ruote. Emozione 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 Grazie a tutti.